lui è decisamente molto single devo dire che dal vivo sei molto più sexy hai capito è già partito bene ciao a tutti come vorresti che fosse come vorresti che fosse quest'uomo misterioso non lo so non lo so non saprei dirti adesso però mi piace il suo profumo che per me è importante ti piace già qualcosa te lo immagini moro o biondo non lo so non aprire gli occhi moro moro vedi sempre mori li scegli tu eh no 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 però non lo so forse dai posso va bene apri gli occhi oriana ciao si saluto come stai tutto bene potevi un piacere si è rimasta è rimasta contenta è rimasta contenta davide secondo te speriamo speriamo eh che dici oriana commentami a caldo sfacciata come sai essere tu questo nuovo ingresso amore aspetta non mi voglio buttare perché non ripeto gli stessi errori grazie aspettiamo non ripeto gli stessi errori grazie a tutti